La fascia penninica corre ai ripari da rincari. A sigillo, ai piedi del Monte Cucco, dove la bolletta della luce del luglio 2022 è quadruplicata rispetto a quella del 2021 e dove da settembre con ordinanza del sindaco si è adottata l'accensione alternata dei lampioni del comune, da tempo sono stati avviati i lavori per l'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica. Si tratta di un intervento reso possibile grazie ai contributi ottenuti dall'amministrazione comunale con il PNRR e per mezzo di risorse messe a bilancio. I lavori che prevedono l'installazione di lampade e di 120 teste palo a led per gli oltre mille corpi illuminanti del territorio, centro e frazioni, consentiranno di abbattere i costi energetici, di garantire una più efficace illuminazione e quindi anche una maggiore sicurezza e di avere una migliore sostenibilità ambientale. È in questo momento che secondo noi è importante andare a efficientare per poi avere nel tempo dei risparmi da subito. Con questo intervento avremo efficientata tutte le 1200 testate, quindi pari di illuminazione pubblica, più ci sono i quadri da rimodernare, uno già l'abbiamo fatto, più c'è 1200 metri di elettrificazione che iniziamo già una parte a circa, eccetera, da sostituire perché ci sono le illuminazioni pubbliche vecchie, interrate male oppure che è, però io l'illumazione pubblica come fare a led lo finiamo a marzo, queste altre cose andremo avanti ma penso nel giro dell'anno di concluderlo. In ballo c'è anche un progetto per 50 mila euro con cui l'amministrazione comunale intende efficientare l'illuminazione degli impianti sportivi attraverso l'installazione di pannelli solari, di accumulatori di energia e scambiatori di calore. I lavori dovranno partire entro il prossimo 15 settembre. Noi penso che stiamo facendo un buon lavoro e in breve tempo quindi ecco siamo in grado di dare queste risposte.